L'acqua quando era tutta questa lingua aggressiva, tenneva sempre pulito. Se lo fermi, adesso con il cloro to, questo è il risultato, e questo è il secondo risultato. Auguri, buon lavoro. Il cloro, quando c'è la prima, con gli uvi, verrà eliminato. Ma dopo un po' di tempo vedremo, vedremo solo. Adesso avete fatto martire la cosa, ma dai, sono soldi, sono soldi dei cittadini. Allora, ho finito, dai. Se sta qui è meglio, se ha preso un quarto d'ora, adesso se ne avrà meglio. Deve sta qui è un quarto d'ora, perché si sta qui? Non può andare, perché si sta qui. Prego.